Chiama, chiama il tuo Gianci, chiama la tua linea Gaia se la tua vita sessuale è come se fosse un nuovo cariello chiama il Gianci perché venga a botti in due sportiello e per le prime chiamate regalo dodici bottiglie di vino da tavola che vino veramente liscio perché quando biva subito all'igerisce chiama, chiama chiama, chiama Gianci si tiene il coraggio e chiama chiama si tiene il stomaco, amici pure vino amici che steppini è truffo, ho solo pacca chiama, chiama se non struppe proprio, chiama ti ha ancora da chiamare nessuno a samadino il telefono, fermo! Pronto? Pronto Gianci? Si sono io, chi sei? Sono Gennaro Damugnano Gennaro Damugnano, ciao Gennaro, ciao Ma dimmi una cosa Gianci che lo viene, è vino di torchio No, no Gennaro, l'ho fatto io con i miei piedi invece di rompire i palumi ha fatto bene Gianci è un momento davvero lì si come ti piace? ti piace? senti, perché sei la prima chiamata sai che fa Gianci per te, che fa Gianci per te riempio tutta la vasca da bagno piena di vino e mi faccio il bagno nudo oh si, si, però prima di tutto prendi una cartella, prendi una cartella però Gennaro, è una volta che ci prendi una cartella che ha già fatto ammonna Damarcoca caffone, villico, bisogna filtrarle hai visto? hai visto che è attaccato? c'è la segretà, c'è la segretà lo scopo di questo programma qual è? quello di trattenere il cliente al telefono tu l'hai trattenuto? no, l'hai trattenuto? no, è stato scusumato e adesso qui ti ha attaccato adesso sono un briago uno che ti ha chiamato a te capito? tu dove ne devi andare? la vuoi? chiamala Cesina e facciare uno bello che muscolo perché te ne... e sei un leader, gretino!